Che sta facendo? Salve anche a lei, mi sembra ovvio, sto disegnando, lei mi dice che farà? Senta, ma mi scusi, che cosa crede di ottenere con questo disegno? Cioè, lei non sta rappresentando niente di questo mare, i colori che usa sono inappropriati, la tecnica è assente e la prospettiva è completamente sbagliata. Questo disegno non ha nessun valore artistico. Lo so, lo so. Quindi? Quindi cosa? Perché lo sta facendo se anche lei sa di non essere in grado di disegnare? Vedete, tempo fa, mentre me ne stavo qui a dipingere, vedi quest'uomo un po' goffo che stava lì a camminare sulla spiaggia con la borsa e la testa abbassata a raccogliere le alghe. Veniva qua tutte le mattine, giorno dopo giorno, a raccogliere queste alghe. non si capiva perché lo stesse facendo, finché un giorno non glielo ho chiesto. mi disse che intrecciava queste alghe per creare vari oggetti, come ornamenti o decorazioni. non lo faceva per venderle e nemmeno gli importava che si rompessero subito o che la gente non capisse. a lui interessava soltanto venire qui a raccoglierle per poter creare qualcosa di suo. A lui piaceva e lo faceva sentire bene. bene, ora lasciami fare la mia arte e tu crea la tua. a lui fare la tua. a lui a lui Grazie a tutti.